ciao a tutti sono alexander dario bentrovati su warframe allora ragazzi già da qualche giorno è uscito un nuovo update il 27.1 che contiene delle novità relative ai kuvalich a quanto pare dal sondaggio che ha fatto steve prima di natale è risultato che di tutti gli aggiornamenti che sono stati rilasciati nel 2019 quello meno gradito dai giocatori è stato appunto quello dei kuvalich e quindi digital stream ha deciso di porre rimedio a questo scarso gradimento apportando qualche modifica al sistema mi dispiace che sono in ritardo di qualche giorno rispetto all'uscita di quest'update ma soltanto nel weekend sono finalmente riuscito a metterci mano allora andiamo subito quindi a vedere quali sono le novità però per farlo mi servirà prima di tutto trovare un larvling la prima grossa novità è relativa proprio ai larvling è una modifica che migliora decisamente la qualità della nostra vita come giocatori perché adesso quando ci troviamo di fronte a un larvling quando dobbiamo decidere se ucciderlo o meno per creare un kuvalich adesso abbiamo la possibilità di visualizzare come potete vedere sopra al nostro larvling quale sarà l'arma che avrà il kuvalich che ne deriva in questo modo possiamo decidere chiaramente se ucciderlo oppure no perché magari quell'arma già ce l'abbiamo e quindi non siamo interessati e questa ragazzi è davvero un'ottima cosa perché così possiamo evitarci un bel po di doppioni alle armi e possiamo risparmiare quindi un bel po di tempo una volta buttato giù il larvling avrete 30 secondi per decidere se ucciderlo o lasciarlo vivere in caso non siete interessati ad ottenere il kuvalich e quindi lo lasciate vivere otterrete a fine missione 100 unità di kuva ecco qui questo è il kuvalich che ho ottenuto uccidendo quel larvling non ha tratti particolari né è efimera però come potete vedere ha il kuvasir esattamente come ci era stato anticipato dal kuvalarling per il resto le modalità di eliminazione del kuvalich non sono cambiate quindi tocca iniziare a fare un po di ricerca di murmur per capire la sequenza esatta dei requiem da utilizzare e quindi ragazzi iniziamo subito l'altra novità che è stata introdotta è che quando utilizziamo il nostro parazon sul kuvalich e abbiamo la sequenza sbagliata di requiem non veniamo più presi dal kuvalich che ci spezzerà la schiena e ci ucciderà semplicemente il kuvalich si farà una risata e se ne andrà lasciandoci quindi proseguire la nostra missione senza ulteriori penalità naturalmente non è cambiato il fatto che se sbagliamo la sequenza dei requiem e tentiamo l'uccisione del kuvalich questo aumenterà di grado per il momento il grado massimo è ancora il quinto ma digital stream sta già studiando sta già ragionando sul fatto di aumentare il livello massimo di questo nemico per aumentare anche il livello di sfida per i giocatori più esperti mentre state vedendo un po di incontri ravvicinati che ho avuto con il kuvalich vi parlo delle altre due novità di questo aggiornamento che sono un po pensate secondo me per attirare di nuovo i giocatori che hanno spremuto già tutto quello che c'era da spremere dai kuvalich e quindi si sono allontanati da questa modalità vale a dire nuove armi e la valence fusion e inizierei parlandovi proprio di quest'ultima novità la valence fusion praticamente sostituisce il trasferimento che c'era prima per ovviare ai duplicati delle armi cuba prima era possibile sostituire un'arma con un'altra e in questo modo non perdere tutti i vari potenziamenti le varie forme che erano state applicate alla prima arma con la fusione invece oltre a tutte queste cose è possibile incrementare il bonus al danno innato della nostra arma quindi se noi andiamo a sommare diciamo due armi una magari al 40 per cento di danno e l'altra al 25 questo è l'esempio che facevano loro possiamo ottenere un'arma che avrà un bonus al danno innato del 44 per cento e così via quindi possiamo sommare più armi fino a raggiungere un cap massimo del 60 per cento a questo danno innato della nostra arma andando quindi a creare quella che loro definiscono arma cuva perfetta sinceramente il 60 per cento è già una bella percentuale ma si poteva fare di più e comunque è un modo per non buttare al vento tutti i vari duplicati di armi che magari abbiamo ottenuto durante le nostre missioni non è il mio caso perché comunque mi sono sempre tenuto abbastanza alla lontana dai cuvalice e quindi ne ho veramente poche di armi cuva però per chi si è messo davvero a farmare tanto su questa modalità questa potrebbe essere l'occasione di sfruttare a pieno tutti i duplicati che ha ottenuto l'altra ragione che potrebbe spingere un giocatore che ha già fatto tutto sui cuvalice a tornare ad affrontare questi nemici e appunto il fatto che sono state aggiunte delle nuove armi cuva lasciatemi giusto il tempo di uccidere questo nuovo leech e poi vi lascerò come al solito degli schemi riepilogativi di queste nuove armi di fatto si tratta di due vecchie armi rielaborate nella versione cuva l'ind e il nuker e poi una nuova arma un nuovo arco il cuva bramma che lancia delle frecce a grappolo che esplodono all'impatto oppure possiamo scegliere di far esplodere in volo bene ragazzi queste erano le novità introdotte per il sistema dei cuvalice intanto recupero il mio cuva seer e mi stavo dimenticando di dirvi che per quel che riguarda invece i cuvalice che avrete convertito adesso quando spawneranno per darvi una mano in missione finalmente potranno utilizzare le loro abilità che non so per quale motivo ma fino ad ora non erano disponibili ci sono state altre piccole modifiche altri piccoli hotfix al sistema dei cuvalice ma visto che è un sistema ancora in divenire non starei ad approfondire ogni singolo aspetto con questo aggiornamento però è arrivata anche un'altra cosina una cosina estetica molto molto carina devo dire vale a dire questa deluxe skin scati per aivara quindi per chi di voi non fosse stato così entusiasta dell'aspetto da medusa di aivara prime può rifarsi gli occhi con questa deluxe skin è veramente molto bella e anzi sapete che vi dico io quasi quasi per salutarvi l'acquisto tanto era già mia intenzione farlo così la andiamo a vedere assieme questa deluxe skin è veramente molto bella e rifinita con veramente un sacco di dettagli mi piace molto che ci sono delle parti in tessuto bordeaux che sembrano veramente di velluto invece le parti blu mi sembrano più metallizzate diciamo che è una skin con una specie di dualità che può ricordare per certi versi le skin di equinox però non è la prima volta che noto una certa volontà di mischiare le caratteristiche dei warframe nelle deluxe skin questa della skin tra l'altro viene accompagnata con una saia andana che anche lei ha questa caratteristica di dualità come potete vedere oltre che ha una skin per la ballistica che devo dire è veramente molto molto bella anche questa mi piace molto anche se è una skin limitata soltanto a un'unica arma diciamo che se le ultime skin deluxe non mi avevano convinto appieno con questa digital stream ha fatto centro almeno per quel che mi riguarda è veramente molto molto ben realizzata e anche se lo stile da medusa di ayvara prime a me sinceramente piaceva questa skin è ancora più bella onestamente detto questo ragazzi io vi saluto e vi do appuntamento a un prossimo video ciao ciao